Oh fratelli bianconeri e non ben ritrovati a tutti. Dunque video di stasera per parlare di un argomento che circola già da qualche settimana e che mi ha un pochino preso come argomento perché il nostro caro Mattis De Lid è spesso criticato ma soprattutto è criticato dai tifosi di altre squadre. Non voglio stare a sindacare chi più chi meno, non mi interessa. Però è stato etichettato da alcuni tifosi di altre squadre come bidone. Ora, a parte il fatto che io trovo la parola bidone abbastanza offensivo, ma non bidone perché c'è anche il bidone dove tu tieni la vernice per dire, però tendenzialmente la parola bidone nello sport è una parola altamente offensiva secondo il mio punto di vista. no? E siccome io sono stato un po' beccato quando qualche mese fa mi permisi di dire a Sarri che era brutto, io avevo fatto ovviamente una battuta ma non è stata capita, pazienza, niente di male. Però io poi leggo, ascolto anche tante cose e vado su alcuni siti, su alcuni canali youtube eccetera e mi trovo a sentirmi dire che De Lid è un bidone. Ora, tralasciando la parola in sé, che lascia poi il tempo che trova, però io non riesco a capire che cosa abbia fatto fino a oggi di male questo ragazzo per essere etichettato come bidone. Allora, questo ragazzo è stato pagato dalla Juventus 75 milioni di euro, ok? Ha 19 anni, 20 compiuti da pochissimo, è titolare della nazionale olandese e lo scorso anno è risultato, dopo Van Dijk, il secondo miglior difensore di tutta la Champions. Ora, siccome io tra l'altro sono uno che ha le classifiche, ci credo fino a un certo punto, ciò non toglie però che questo ragazzo arriva a Torino da un campionato sicuramente non particolarmente allenante come quel olandese e sentirlo etichettare come bidone mi suona particolarmente distorta come cosa. Allora, innanzitutto lui ha dovuto enormemente accelerare il suo periodo di crescita, perché? Perché si è trovato a giocare titolare quando non era assolutamente nei tempi di farlo giocare titolare, causa l'infortunio di Chiellini. Quindi la prima domanda che mi sorge spontanea è come mai gioca titolare d'Elite e non gioca titolare De Miral o non gioca ad esempio titolare Rugani, che sono anni che è la Juventus e ormai ha fatto la panchina anche a mia nonna? Come mai non giocano questi due qui e invece gioca De Ligt titolare? Allora, De Ligt titolare gioca, ve lo dico io perché? Perché la Juventus ha una grande fiducia in questo ragazzo e io sono convinto che questo ragazzo diventerà un campione. Adesso ha giocato non sempre perfettamente. Sono state forse più le partite dove è stato insufficiente che quelle dove è stato sufficiente. Però vi pongo una domanda e cioè, e questa la rivolgo particolarmente ai tifosi juventini, voi vi ricordate quando alla Juventus arrivò Bonucci, il primo anno, i primi due anni? Ve lo ricordate il Bonucci di quegli anni? Cioè il Bonucci di quegli anni, ragazzi, era un giocatore che altro che De Ligt di adesso, era un giocatore da Serie C, fece delle Bonucciate Bonucci i primi due anni alla Juventus che furono galattiche. Oggi come oggi, insieme a Chiellini è un difensore che potrebbe insegnare il gioco del difensore ad Hardware. Parole dette da Murigno. Ora, io non so se sia vero, però ciò non toglie che sicuramente Bonucci sta attraversando forse uno dei momenti più belli della sua carriera, no? Ha cominciato la stagione quest'anno in un modo strepitoso, sbagliando pochissimo. Ciò non toglie che io rimango dalla mia idea che per me Bonucci è un buon giocatore, ma poco altro secondo me in più. Non è certamente un Beckenbauer, per capirci. Allora io mi chiedo, quando Bonucci arrivò ragazzo alla Juventus, fece più errori e sicuramente più grossi di quelli che fino ad oggi ha commesso De Ligt. De Ligt è stato etichettato un bidone. Allora ragazzi, guardate, credetemi, etichettare un giocatore un bidone vuol dire che è una ciofeca, che è una pippa, come molte volte voi definiti giocatori, no? Io non credo che De Ligt lo sia. De Ligt deve trovare il giusto ambientamento. Si è trovato a far parte da titolare subito in una squadra che probabilmente gli avrebbe dovuto dare due mesi in più di adattamento, quindi ha dovuto enormemente accelerare il suo periodo di crescita. Allora, cari anti-juventini, fatemi questa cortesia, giudicate De Ligt alla fine della stagione, non adesso, perché voi avete la brutta, ma non soltanto gli anti-juventini, anche tra gli juventini. Voi avete la sana abitudine, sana, malsana abitudine, di criticare i giocatori dopo due mesi che sono qui, dopo un mese che sono qui. Abbiate tempo, prendetevi pazienza. Vediamo De Ligt a marzo, aprile, a maggio, quando ci sarà veramente il clou dei campionati e della Champions. Vediamolo lì, perché l'anno scorso De Ligt è stato votato come secondo miglior difensore della Champions League. secondo voi, secondo voi, chi l'ha votato è competente di calcio o non capisce nulla? Perché non l'ha votato uno solo, l'hanno votato in diversi. Allora, mi spiego. Secondo me, a parte che per me il bidone nel calcio non esiste, per me il bidone è vero, esistono cinque tipologie di giocatori. Fuoriclasse, campioni, ottimi, medi, scarsi. Questi per me sono. Gli scarsi sarebbero quelli che secondo molti di voi o degli anti-juventini sarebbero considerati i bidoni. Allora, volete sapere per me un giocatore scarso qual è? Ne cito uno tra tanti, ma non perché gli voglio male, anzi tutt'altro, gli ho voluto anche bene. Sturaro. Sturaro è un giocatore scarso, con tutto il bene per il bravo Stefano, però ci mancherebbe. Però è un giocatore scarso, che secondo il mio punto di vista, Sturaro e calcio non possono stare nella stessa frase, a mio parere. Ma con tutto il rispetto e il bene che io voglio a Stefano, ma forse queste cose le sa anche lui. Ma quando tu parli di un De Lì pagato 75 milioni, giocatore destinato a diventare un perno centrale della difesa di una delle squadre più forti del mondo, cioè a me mi fa ridere sentirlo etichettare un bidone. È come se io mi mettessi, che so, a etichettare un bidone, chi potrebbe... Skriniar, per citarne uno, ma non perché è dell'Inter, dico Skriniar come giocatore. Per me Skriniar è un buon giocatore che farebbe la sua bellissima figura anche alla Juventus. Non è un fuoriclasse, ok? Ma è un medio buon giocatore che sicuramente la sua figura in Serie A la fa. È come se mi mettessi a etichettare un bidone Skriniar che per me un bidone Skriniar non è. Quindi signori anti-juventini, l'anti-juventinità è una brutta malattia e bisogna che voi vi diate una regolata quando parlate di giocatori della Juventus. Perché credetemi, anti-juventini, avete più giocatori mediocri voi nelle vostre squadre che la Juventus. La Juventus tutt'al più può avere qualche giocatore che si infortuna troppo spesso. Ecco, questo forse sì. Purtroppo Ramsey, Douglas Costa, De Sciglio, abbiamo Chiellini lungo De Gente che mediamente subisce un paio di fortuna in tutti gli anni. Questo forse sì, ma la Juventus non ha giocatori scarsi quest'anno. Non li ha scarsi. Allora, prima di andare a definire un giocatore come De Ligt un bidone. Signori, fatevi veramente un esame di coscienza perché allora mi portate veramente a pensare che di calcio capiate poco. Cioè, etichettare De Ligt un bidone vuol dire che per me un tifoso vuol dire che di calcio capisce poco. De Ligt è un giocatore giovane che si deve adattare ad un calcio nuovo, in un campionato nuovo, in una lingua nuova. Gli vogliamo dare un po' di mesi di tempo? Guardate, signori, che alla Juventus ha fatto fatica gente come Nedved, ha fatto fatica gente come Platini, ha fatto fatica gente come Zidane. Quindi io credo che dovremmo tutti cercare... Poi tra l'altro De Ligt, ragazzi, fa uno dei ruoli più difficili in assoluto nel mondo del calcio, il centrale di difesa, che è uno dei ruoli più difficili e impegnativi che c'è. Non criticatelo troppo, e lo dico anche a noi Juventini, non criticatelo troppo De Ligt, perché non merita critiche in questo momento. Ci sarà il tempo di criticare se lo meriterà, a fine stagione. Io attualmente non credo che sia giusto criticarlo, ma soprattutto esorterei gli anti-Juventini a non criticare De Ligt e guardare più in casa propria, che di problemi ne hanno il triplo rispetto a noi, con certi giocatori che hanno. Ok? De Ligt va tifato, nel modo più assoluto, e io credo che un esteta del calcio o uno che comunque si ritiene conoscitore della materia pallonara, un giocatore De Ligt lo debba soltanto apprezzare. Se non lo vuoi apprezzare, non c'è problema, ma quantomeno non etichettarlo bidone, perché De Ligt con la parola bidone non ha veramente nulla a che vedere, ma nulla, nulla, nulla. Ciao!